Benvenuti a tutte e a tutti. ATM Uncovered sta per iniziare. Una docu-serie di 5 puntate per condividere un viaggio inedito insieme. Alla scoperta di officine, centrali operative. Mobilità del futuro tra autobus, metropolitane e tram. Vi sveleremo i segreti del lavoro che ogni giorno facciamo per voi. Direttamente dietro le quinte di ATM. Allora, siete pronti? Entrate con noi. Il viaggio comincia. Buona visione. Grazie a tutti.